oggi ho preparato per voi una ricetta molto particolare una speciale chiffon cake rivisitata cioè realizzata con birra guinness e cacao e decorata con crema al burro e seguite la ricetta con tutti gli ingredienti il procedimento per realizzarla come si è così in connect con il messire così in plus per preparare la nostra chiffon cake alla birra guinness abbiamo bisogno di 230 grammi di farina 00 45 grammi di cacao 300 grammi di zucchero 6 tuorli e 6 albumi che avremo montato a neve con una bustina di crema or tartaro poi abbiamo bisogno di 120 grammi di olio di semi di 180 ml di birra guinness di una bustina di lievito per dolci e di mezzo cucchiaino di sale la prima cosa che facciamo come abbiamo detto è montare gli albumi con il crema or tartaro io l'ho fatto prima per accelerare i tempi voi potete farlo con il connect seguendo la ricetta che è prevista già nelle ricette preimpostate quindi ad albumi montati procediamo a mettere nel boccale tutte le polveri per cui sale farina zucchero lievito cacao quindi tutti gli ingredienti in polvere ed impostiamo velocità 5 per 10 secondi a questo punto aggiungiamo gli ingredienti liquidi quindi l'olio le uova e la birra impostando questa volta 30 secondi a velocità 5 nel frattempo mettiamo a pre riscaldare il forno a 160 gradi in modalità statica quindi abbiamo detto 30 secondi velocità 5 adesso versiamo quanto ottenuto in una sciatola molto capiente e ci muniamo di una spatola e anche di una frusta a mano quindi mettiamo il contenuto del boccale nella ciotola ecco la sciatola riempita con il contenuto del boccale adesso andiamo ad aggiungere piano piano gli albumi lavoriamo gli albumi dal basso verso l'alto per non smontarli la nostra chiffon infatti dovrà essere in l'impasto per la nostra chiffon dovrà essere molto gonfio e presentare infatti molte bolle questa maniera gli eviterà la perfezione ecco pronto il composto adesso lo verso in uno stampo da chiffon cake lo vado a cuocere per 50 minuti un'ora circa fate sempre la prova secchino importante che la chiffon sia ben cotta altrimenti rischiate che si stacchi troppo presto dallo stampo nel momento in cui l'andate a capovolgere per farla raffreddare ricordate sempre che lo stampo da chiffon non va né imborrato né infarinato ecco pronto vado ad infornare ci vediamo tra un'ora per il risultato finale al dopo abbiamo sfornato la nostra chiffon alla Guinness adesso la andiamo a mettere a freddare a testa in giù sul piedistallo dello stampo e aspettiamo che sia ben fredda prima di toglierla la chiffon cake è pronta era fredda l'ho tolta dallo stampo adesso vado a fare la crema al burro con cui farò la decorazione superiore della chiffon ma come sempre vi ricordo se volete potete anche mangiarla semplicemente in questa maniera comunque ottima per la crema al burro vi dico prima gli ingredienti utilizzeremo 125 grammi di burro super morbido 125 grammi di filadelfia e 75 grammi di zucchero a velo ci occorrerà l'accessorio mixer la prima cosa che facciamo è tagliare a pezzettini il burro come vedete io l'ho già fatto mettiamo nel boccale ancora non inseriamo l'accessorio mixer e e andiamo a mescolarlo per 20 secondi a velocità 4 quindi 20 secondi a velocità 4 adesso con la spatola portiamo giù quello che è sanito sui bordi inseriamo l'accessorio mixer e andiamo ad impostare 15 secondi a velocità 4 operazione che faremo quattro volte quindi 15 secondi velocità 4 per quattro volte partiamo con la prima abbiamo pure ogni volta di verificare se è salito troppo burro lungo i bordi della boccale in questo caso no procedo con la seconda nel caso fosse salito potete aprire con la spatola tirare giù terza ultima volta adesso questa stessa velocità la impostiamo per due minuti quindi due minuti a velocità 4 e lasciamo andare adesso andiamo ad inserire dal tappo del misurino un cucchiaio di zucchero a pelo alla volta impostiamo però 30 secondi a velocità 4 e mettiamo cucchiai di zucchero mentre le lame sono in movimento apriamo e andiamo a tirare giù lo zucchero che è rimasto sulle pareti del boccale e facciamo la stessa cosa con il filadelfia quindi sempre 30 velocità 4 mentre le lame girano metto il formaggio e adesso tiro giù quello che è salito sui bordi del boccale e dopo un'ultima impostazione di 20 secondi a velocità 4 20 secondi la crema al burro è pronta adesso la metto in una ciotola e la metto in una sac a poche per procedere alla decorazione se siete molto molto golosi potete addirittura usare questa crema al burro per farcire la nostra chiffon cake quindi tagliandola a strati ma dovete essere veramente molto golosi adesso mi munisco di sac a poche e vi faccio vedere la decorazione quindi con un cucchiaio riempio di crema al burro la mia sacca una volta terminata la decorazione andrò a mettere in frigo per far sodare la crema al burro la decorazione è terminata adesso vado a mettere in frigo per farla sodare ecco la nostra chiffon cake al guinness con la sua decorazione e adesso vado a fare una fetta e vi faccio vedere l'interno ecco una fetta della nostra chiffon come sempre umidissima e morbidissima vi faccio vedere spero che la ricetta vi sia piaciuta se vi è piaciuta vi invito a mettere un like a questo video e ad iscrivervi al nostro gruppo facebook messier cuisine connect plus italia in più mi invito ovviamente ad iscrivervi a questo canale youtube in cucina con messier per restare aggiornati sulle mie ricette e a seguirmi sempre sul sito www.messiericette.it e buona chiffon cake alla guinness per tutti voi